49 nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo, individuati con un alto numero di tamponi rispetto alla media, 2498 quelli processati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi, 18 riguardano la provincia di Pescara, 14 quella di Chieti, 11 l'Aquilano e 5 il Teramano, mentre uno riguarda un paziente proveniente da fuori regione. I pazienti di oggi hanno un'età compresa tra i 4 e i 97 anni, tra loro 5 minori. Nella settimana che va dal 25 settembre ad oggi ci sono stati 181 casi, così come la settimana precedente in cui si sono registrati 180 casi. Le attualmente positivi in Abruzzo sono 938 più 27 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti. Di questi 58 più 6 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 874 più 22 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il direttore sanitario della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Angelo Muralia, ha dichiarato che al Santissima Annunziata il virus ha contagiato tre operatori della terapia intensiva cardiochirurgica e del blocco operativo della cardiochirurgia. Inoltre un paziente risultato positivo all'ospedale di Vasto e uno a quello di Ortona. Questo non pregiudicherà, fanno sapere dalla ASL la normale ripresa di tutte le attività dei nosocomi. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì quest'oggi ha commentato l'allarmismo diffuso a seguito della riapertura delle scuole, ricordando che va prestata attenzione soprattutto al di fuori degli istituti scolastici. Il fatto che si creano degli allarmismi è dettato dal problema fondamentale che noi stiamo facendo tanti tamponi, quindi è un elemento importante. Fare tanti tamponi significa non essere positivi, spesso e volentieri troviamo qualche presunto, cioè si sta in una fase ancora di indagine, allora si crea questi allarmismi. Dobbiamo aspettare le risposte dei tamponi e fino ad oggi penso che siano pochissime, poche le scuole dove c'è il risultato proprio un caso positivo, a Vasto, dove tutta la parte della sanità, della prevenzione è intervenuta per verificare quali sono stati i contatti, quindi sono stati messi in atto subito quelle che sono le norme di isolamento e non ci sono stati per il momento altri contagi.